Approvato dall'Assemblea dei Soci, il bilancio 2022 di Estra, che ha distribuito 11 milioni agli azionisti, alia Servizi Ambientali Firenze, Pistoia Prato, Coingassarezzo, Intesa Siena, Viva Energia Ancona. Nuovo store Estra in via dell'Opera nel comune senese di Sinalunga. Nel nuovo store, aperto le mattine di martedì, mercoledì e venerdì e mercoledì pomeriggio, Comfort e disponibilità sono al servizio dei clienti. Aperte le iscrizioni ai corsi 2023 dell'Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente, di cui Estra è socia. Sono quattro i corsi per i quali l'Istituto di Cole Valdelsa, Siena, ha aperto le iscrizioni. Kimono, riflessi d'arte tra Giappone e Occidente, è il titolo della mostra sostenuta da Estra al Museo del Tessuto di Prato, aperta fino a novembre con il patrocinio dell'Ambasciata del Giappone in Italia. Grazie.